Mariano spinge il pallonetto, c'è Chiappello in copertura, Cofli, attacco, vincente di Tim Cofli Bisotto, Pedron per Cofli, money out, l'elvetico a segno Budorunian, c'è Cofli in ricezione, poi lo stesso Svizzero, money out di Tim Cofli 25-24, lo abbracciano tutti i compagni Seconda parte, Sperotto dietro per Antonio Suraci, money out for block To Tim Cofli, la to the room su 1-1, su Antonio Suraci, 26-24